Con Claudio Giustini, oggi qui alla prima uscita nuova AS San Benedettese, che partita hai visto? Buonasera a tutti, sono stato colpito in modo positivo, ho visto una bella squadra subito organizzata, il mister subito si vede che è padrone della squadra, del gioco, i ragazzi li ho visti veramente bene, anche i pigioni, soprattutto i pigioni, non conoscendoli tutti, ho visto anche l'elenco dell'età e devo dire buona, buona la prima diciamo, molto bene, una squadra di Serie A poi. Adesso continuerà questo ritiro, sabato c'è un altro test importante con la regina di Serie B, con questo spirito questa squadra da qui a qualche giorno potrà fare ancora meglio di oggi secondo lei? Sicuramente, chiaramente la squadra la vedo con enormi potenzialità, cioè anche la prima volta la vedo, ma ho visto che comunque sia anche cambiando, cambiando i protagonisti in campo, i giovani d'età, ho visto 2003, 2004, 2001, si sono comportati molto bene, ripeto, con una squadra organizzata, una squadra che comunque ha vinto il campionato, è venuta in Serie A dalla Serie B, quindi credo e sono molto fiducioso, sono molto contento, ho fatto i complimenti al Ministro, al Secondo, a tutto il gruppo, veramente oggi è stata una bella giornata, sono soddisfattissimo.